e quello l'abbraccio di ser nicola al papà immaginiamo chissà o un amico i grigi rossi eccoli lì davvero curioso sono personaggi veramente singolari a questo mondo guardate come tonico evidentemente ha voglia di andare a casa ser nicola la mamma bellissima ser nicola con nome con nome singolare magari quando sarà andato via gli chiederemo qualcosa e qua continuano i lavori di messa in sicurezza di sistemazione la bellissima